Ben trovati, buonasera, il programma politico di Primo Canale, buonasera alla nostra Silvia Isola. Buonasera Matteo, buonasera ai nostri telespettatori. Ultima puntata del 2022 del nostro programma politico, poi faremo questa brevissima pausa natalizia, ci ritroveremo lunedì 9 gennaio con la prossima puntata in prima serata per parlare di temi importanti legati alla città, alla regione, al nostro paese. Buonasera Mario Mascia, assessore al lavoro del Comune di Genova. Buonasera a tutti. Grazie assessore di essere con noi e buonasera a Michele Colnaghi che è collegato via Skype, Presidente del Municipio Centro Ovest. Grazie di essere con noi. Da tutti e grazie a voi per l'invito. Grazie mille. Tra poco ci raggiungerà anche il senatore Lorenzo Basso del Partito Democratico, più tardi avremo anche l'opinione autorevole di Nicola Apice che è un RSU, cioè un rappresentante sindacale della film CISL delle Acciaieri d'Italia, perché Silvia stasera vogliamo affrontare alcuni temi importanti sulle infrastrutture della città, i depositi chimici che sono diciamo uno dei cavalli di battaglia di Michele Colnaghi e tra poco ci facciamo aggiornare da lui, ma anche la questione delle ex Are Ilva, o Are Ilva, tuttora, sì, ex Ilva, ma attualmente Acciaierie d'Italia, che sono in concessione ad Acciaierie d'Italia e che però potrebbero trovare una nuova collocazione, almeno secondo il Comune di Genova. Eh sì, anche perché comunque sappiamo che il 2023 è un anno molto importante, si parla tanto di grandi opere ma c'è poi anche il tema del lavoro che è fondamentale e quindi per cui tante persone in questo Natale magari sono un po' anche incerte su quello che può essere il loro destino, abbiamo visto anche diversi scioperi nelle settimane passate, un accordo che poi ha cercato di alleviare la situazione, ma il destino delle Are Ilva è sicuramente un tema fondamentale. Per questo motivo vi chiediamo anche di intervenire come sempre al 347-676-6291 con i vostri commenti anche per guidarci in questo dibattito. Intanto sulla questione dell'ex Are Ilva, come si diceva, è stato il Comune a provare a fare una proposta che ha un po' sparigliato le carte. L'ha fatta qualche giorno fa il Sindaco Bucci, assieme al suo consigliere delegato Davide Falteri. Il servizio ci riporta quel giorno con il nostro Riccardo Olivieri. Il Comune di Genova ha fatto la prima mossa per sbloccare la situazione delle aree ex Ilva, inutilizzate da molti anni, e ha raccolto le dichiarazioni di interesse di quattro aziende nel settore della logistica predittiva per l'assegnazione di circa 270.000 metri quadrati di quell'area, uno snodo fondamentale. Ora la palla passa al Ministero dello Sviluppo Economico e alla concessionaria Arcelor Mittal. Intanto bisogna comunque riaprire l'accordo di programma e capire come ragionare con la società concessionaria per vedere comunque nel rispetto di reciproci interessi trovare una soluzione che possa far contenti entrambi. Quindi questo è il primo passo da fare. Se ci saranno queste condizioni sicuramente si può dar seguito alle promesse fatte che in questo caso non sono solo enunciate ma sono scritte con un impegno occupazionale, ricordo, dichiarato e firmato. Accordo di programma che per il Sindaco Bucci è stato rotto proprio da Arcelor Mittal, che in quell'area avrebbe dovuto dare lavoro a 2.200 dipendenti mentre attualmente sono 950 di cui molti in casa integrazione. Il Sindaco vorrebbe proporre un addendum all'accordo salvaguardando il settore dell'acciaio che ritiene fondamentale per Genova e concedere le aree a queste aziende che creerebbero 400 nuovi posti di lavoro. Ogni metro quadrato del porto di Genova deve avere una ricaduta economica e occupazionale. Questa è la linea guida che noi abbiamo e su questa abbiamo intenzione fermamente di rimboccarci le maniche e lavorare. Buonasera al senatore Basso che è con noi, grazie a Lorenzo Basso del Partito Democratico. Allora queste sono le parole di Marco Bucci, subito all'assessore Mario Mascia. È questa la strada, quella cioè di provare a introdurre delle società che si occupano di logistica all'interno delle aree Exilva? Guardi, in realtà non è neanche una proposta del Comune ma una manifestazione di interesse che proviene da quattro imprenditori di tutto rispetto, c'è MSC, c'è Ignazio Messina, c'è Interglobo, Number One, insomma Logistics Group e francamente mi sembra che sia una proposta di tutto interesse. Si tratta di occupare delle aree che comunque sono sottoutilizzate e questa proposta mette in campo anche 400 posti di lavoro. Io francamente prima di chiudere la porta a una proposta del genere ci penserei un attimo perché lì le aree ci sono e sono le aree Ilva. Le aree Vatela Pesca sono da altre parti, non si sa dove e l'alternativa in realtà non si trova. Il problema diciamo di queste aree è soprattutto l'incertezza in cui versa il comportamento di acciaieri d'Italia fondamentalmente. Non si capisce che cosa vuol fare da grande questa società perché se desse lavoro, ampliasse, lavorasse sulle acciaierie almeno si potrebbe discutere di acciaio ma siccome non lo sta facendo il tempo passa e non c'è chiarezza. A che punto sono anche le interlocuzioni con Acciaierie d'Italia? Riuscite a dialogare come comune perché qui c'è una partita di lavoro grande, ci sono tanti dipendenti che un po' lavorano e un po' non lavorano e ce ne sono tanti altri che potrebbero lavorare proprio in questi nuovi insediamenti. Guardi, che la siderurgia possa avere ancora un posto a Genova e nel quadro di uno scenario economico nazionale è un fatto, forse bisognerà ragionare su una siderurgia che sia dal punto di vista della sostenibilità e dal punto di vista delle energie che vengono utilizzate a impatto zero e sia la cosiddetta decarbonizzazione di cui ha parlato anche Tonino Gozzi sicuramente un obiettivo condiviso. Che la siderurgia sia incompatibile con la logistica nelle aree Exilva è tutto da dimostrare, un operatore importante come Augusto Kozulic ha addirittura invitato a valutare questa compatibilità perché evidentemente anche a logica mi sembra che l'una non esclude l'altra. Quindi francamente nessuno vuole escludere un'attività così importante dallo scenario genovese. Se c'è però una manifestazione di interesse che riguarda un'attività come la logistica francamente che ha anche un indotto occupazionale e un certo rilievo, francamente mi sembra veramente un peccato chiudere la porta in faccia e dire no. Noi siamo vincolati ad un accordo di programma che come diceva Rixi è anche stato praticamente inattuato nelle parti che sono più interessanti dal punto di vista della conservazione dei livelli dei livelli occupazionali e francamente da questo punto di vista non vedo perché di fronte ad una carta che è rimasta lettera morta ci si debba fare tanti problemi. Senatore Basso da qualche mese è tornato a frequentare i sacri palazzi della politica romana, le chiedo cosa si dice a Roma nel rapporto con Acciaierie d'Italia perché poi dopo sentiremo il sindacato, io so già che cosa dirà il sindacato perché giustamente lo dice da mesi, forse anche di più, prima di parlare di ricollocamenti, di nuova destinazione di queste aree è necessario che Acciaierie d'Italia presenti il piano industriale e si decida cosa fare esattamente dello stabilimento di Genova, però non riesco a capire da osservatore esterno perché ancora non si riesca ad avere questo piano industriale. Credo che la questione sia molto seria, intanto partiamo da questo perché anche l'interlocuzione, lo scambio che abbiamo avuto con il sindaco è stato comunque uno scambio partendo che è una situazione seria e complessa e non è che vogliamo da questo punto di vista dare dei giudizi o dare delle risposte che possono essere delle risposte definitive, però il fatto che in questi anni Acciaierie d'Italia non abbia risposto ed è un fatto evidente, a me sarebbe interessata molto la risposta alla sua domanda di prima, ovvero qual è il grado di interlocuzione con la città di Genova, perché una delle cose che oggi manca è partire da un presupposto, l'acciaio così come è stato trasformato a Genova, quindi un acciaio compatibile con la città, non stiamo parlando della situazione di Taranto, dobbiamo distinguere le due situazioni perché altrimenti rischiamo davvero, come dire, di fare confusione fra quelle che sono le opportunità che abbiamo su Genova grazie a dei sacrifici che questa città ha fatto nel passato rispetto a una situazione molto più complessa che quella di Taranto. Io per esempio uno dei punti che sostengo è che si inizia a ragionare della possibilità che Genova e Novi possano andare a produrre e a continuare il loro percorso anche indipendentemente, quindi valutiamo un piano industriale, comprendiamo qual è questo piano industriale, sollecitiamolo e valutiamo anche altre alternative, perché come è stato fatto in passato, credo che noi abbiamo tutto l'interesse come territorio a sollecitare un rilancio di queste aree e un rilancio di queste attività, ma per due ragioni fondamentali, una è un interesse della città e del paese, l'industria, la manifattura è ancora uno dei capisaldi, un moltiplicatore di posti di lavoro, lo sappiamo, io vengo da un'esperienza imprenditoriale nel mondo digitale, sono un grande sostenitore del digitale, ma la manifattura, l'acciaio che è alla base di questo ciclo economico e produttivo è fondamentale per l'intero tessuto economico e Genova ne è stato un grande protagonista, come appunto ricordava prima l'assessore Mascia citando Tonino Gozzi, ci sono state grandi imprese che sono nate anche da quell'esperienza, da quel know-how, le acciaierie hanno portato a Genova una grande ricchezza, dopo essere riusciti a ripulire quell'acciaio, dopo essere riusciti a permettere un'industria oggi compatibile, perdere quell'occasione per Genova e per l'Italia sarebbe un grande spreco. Questo significa non valutare altre possibilità? No, non voglio dire questo. Dico però che dobbiamo prima di tutto andare a vedere come e quali carte ci possono essere per rilanciare e come è stato fatto nel passato, penso a Saldo Energia che ancora oggi ha bisogno ancora di grande attenzione, penso a Fincantieri, penso a altre realtà, prima di tutto bisogna fare una grande battaglia per rilanciare e per far sì che ci possa essere un futuro dell'acciaio compatibile con l'ambiente nella nostra città e questo è fattibile. Poi ovviamente credo che sia molto serio dire che qualsiasi proposta deve essere presa in considerazione e valutata, ci mancherebbe. Michele Colnaghi, lei rappresenta il territorio naturalmente non in questo caso amministrativamente degli stabilimenti dell'ex Ilva di Cornigliano ma conosce perfettamente qual è il rapporto tra una popolazione civile che vive a ridosso di insediamenti industriali e gli insediamenti stessi. Quale potrebbe essere la strada secondo lei? Quella di provare a uscire dalla logica dell'acciaio oppure quello è un tema che ancora deve essere difeso al di là del fatto che magari forse per la popolazione sarebbe meglio avere dei depositi diciamo abbastanza puliti rispetto ad avere un'acciaieria? Beh, devo dire che innanzitutto mi trovo particolarmente coinvolto perché io faccio automazione industriale quindi mi sono ritrovato a lavorare a l'Ilva in varie zone sia a Taranto che a Piombino, in varie acciaierie, purtroppo alla Tissen Group di Torino, insomma ho vissuto tantissime di queste realtà. Esistono impianti di tipo pulito e che quindi possono essere compatibili con il resto della città e impianti che invece non possono stare a ridosso delle città, è meglio che stiano più distanti. Quindi io credo che in questo caso si debba aprire necessariamente un dialogo sia con i produttori che con i lavoratori, che con la cittadinanza, che con il territorio e trovare magari tutti insieme una soluzione anche perché ci sono appunto ricordavate realtà come Ansaldo Energia che sono assolutamente delle realtà pulite, da valorizzare, da proteggere e quindi si può andare avanti in questa direzione. Ripeto, però deve essere fatto con il dialogo, non con comunicati che arrivano a mezzo stampa e di cui nessuno ha mai sentito parlare. Quindi diciamo che lei dice che anche in un'operazione del genere il territorio dovrebbe essere tenuto in considerazione, anche se ovviamente la partita è gigantesca, è molto più grande, rispetto ovviamente alle competenze amministrative di un municipio come nel nostro caso. Certamente, anche perché comunque lo dice la legge, che le ricadute anche in termini di traffico deve essere fatto uno studio e ci deve essere un confronto con il territorio. Quindi io credo che veramente il confronto che non c'è mai stato tra questa amministrazione e il territorio, lo vediamo sotto tantissimi aspetti, su tantissime partite, deve essere un fondamento da cui partire e un dialogo, ripeto, non solo col territorio chiaramente, però io come rappresentante del territorio e come cittadino credo che sia assolutamente necessario. Intanto dal punto di vista infrastrutturale arriva una notizia che è proprio di pochissimi minuti fa e cioè che il comitato di gestione ha dato il via libera all'estensione nelle aree denominate ex carbonile Enel Levante della licenza in capo a Aldo Spinelli, quindi alle aziende, alle società che fanno capo al commendatore Spinelli. Era un tema questo molto sentito soprattutto dalla sua società, quello appunto di potersi espandere, di poter espandere il suo terminal nel lato di Levante rispetto a dove lui si trova, cioè nel carbonile, sotto la lanterna. La questione del coinvolgimento dei grandi player internazionali, Assessore Mascia, è un'altra delle possibilità che si giocano in questa fase. Ora non è un caso direi che MSC, che oggettivamente l'assopiglia tutto del Porto di Genova e non solo del Porto di Genova, sia capofila di questa proposta alle aree ex Silva. Non è un caso anche perché si parla sempre di territorio, di rappresentatività del territorio, ma chi meglio del sindaco di Genova rappresenta tutti i territori della città di Genova? Forse c'è un equivoco istituzionale che riguarda la rappresentanza e il principio di rappresentanza. Nel momento in cui il sindaco viene coinvolto in questioni e prospettive di questa rilevanza con aziende di caratura, come diceva lei, internazionale, rappresenta tutto il territorio a tutti gli effetti, quindi non c'è bisogno, tra virgolette. Sì, poi c'è la possibilità e l'opportunità di, in fase poi attuativa, stiamo parlando di una manifestazione di interesse per l'assegnazione di 270.000 metri quadri di proprietà della società per cornegliano S.P.A., che sono assegnati in diritto di superficie alla società accegliere d'Italia S.P.A. sono 270.000 metri quadri su 1.200.000 complessivi, quindi stiamo parlando di una proposta, di una manifestazione di interesse che riguarda una porzione abbastanza significativa ma non preponderante rispetto alla superficie complessiva e il coinvolgimento del sindaco con aziende di questa caratura internazionale di per sé è satisfattiva di un coinvolgimento del territorio. Chiaro, lui rappresenta in questo caso il territorio, immagino che Colnaghi, gli do un istante per replicare su questo punto, come dire, che sia poi il sindaco a farsi ambasciatore presso i territori più minuti, cioè quelli dove proprio realmente insistono gli stabilimenti, era questa la sua interpretazione? No, più che altro se fosse un sindaco di tutta Genova lo potrei capire, ma mi sembra che sia il sindaco solo di una parte di Genova e questo l'ha dimostrato a più riprese, quindi mi sorprende che l'assessore dica che i territori non devono essere consultati e però capisco che è un ragionamento che va nella direzione che ha preso questa amministrazione, cioè togliere fondi ai municipi, rendere meno poteri possibili a loro per arrivare probabilmente alla chiusura dei municipi e dai fastidi che questi li causa. Masha, vi sentite? Francamente non so, francamente stasera cena che cosa abbia assunto il presidente del municipio, ma devo dire che ha tratto delle conclusioni dalla mia osservazione che sono assolutamente fuori luogo e anche perché stavo semplicemente parlando proprio nel rapporto con le società internazionali della rappresentatività democratica del territorio che è piena da parte del sindaco della città di Genova. Con ciò non è escluso il coinvolgimento del presidente di municipi i quali hanno un riferimento istituzionale, una rappresentatività limitata al territorio di riferimento, ma non mi sembra di aver escluso assolutamente una rappresentatività dei presidenti di municipi. Sullo sfondo basso mi sembrano due velocità perché la politica ci sta naturalmente, è l'arte della sintesi, del compromesso, quindi dobbiamo capire, dobbiamo rilanciare, non dobbiamo perdere da una parte, però mi pare che poi l'industria invece abbia dei tempi molto più rapidi. Ora questa gente vuole una risposta sostanzialmente adesso perché o fanno qui o fanno da un'altra parte. Però a me sembra come dire che qua ci sia qualcosa di non detto, ovvero non è che per quelle aree fino a oggi non c'erano realtà interessate. Nel senso che noi stiamo parlando di aree che sono fra le aree più pregiate e più ricercate. Io posso ammettere, l'ho detto prima, è una situazione serissima che va presa con grande serietà perché so benissimo che il nostro territorio è un territorio che ha pochi spazi e quindi le aree che possono essere delle aree, soprattutto quelle con accesso al mare, sono aree molto ambite. Però ecco, ora, come dire, quasi mi sembra di vedere il racconto che fino a ieri non c'era nessuno interessato, ora arrivano quattro realtà interessate e quindi hanno bisogno di una risposta. Non era così. Quelle aree fino ad oggi sono state vincolate per una funzione primaria che era quella dell'industria dell'acciaio. Tanto è vero che... E lo sono ancora teoricamente. Come dire, credo che il tema sia un tema da affrontare con grande serietà ma nello stesso tempo a sapere che questo è un motivo e i motivi sono quelli di fondo che dicevo prima. Riteniamo che sia possibile andare ad aprire un discorso, benissimo, ma non è che non ci sono realtà interessate. Allora si percorre un percorso, si percorre un percorso, comunque un percorso che deve avere una pianificazione integrata perché è evidente che stiamo arrivando adesso a un nuovo piano regolatore portuale. A me sembra di vedere tante decisioni che si stanno prendendo prima che si apra il percorso del piano regolatore portuale. Che avviene adesso? Non è che arriva fra un anno, fra dieci anni che abbiamo da attendere. Se noi iniziamo a mettere dei vincoli, dei vincoli che poi precludono la possibilità di costruire una pianificazione integrata, noi rischiamo di andare a compromettere quelle che sono poi delle scelte che hanno un valore per 50-100 anni. Perché guardate, io vengo dal mondo dell'impresa. Nell'impresa prima di tutto quando si fa un progetto si fa l'analisi perché un progetto va bene o va male, prima di tutto se si è fatto una corretta analisi. L'execution, la parte dopo, prende soltanto un 30-40% di quel progetto. Allora, va benissimo, ripeto, ma non è che stiamo parlando di qualcosa, di progetti che fino a ieri non c'erano, di aria che fino a ieri non interessavano a nessuno. Stiamo parlando che qualcuno sta valutando che l'acciaio non sia più fondamentale per questa città e per questa nazione? Io penso di no, che sia ancora fondamentale. È compatibile rispetto a questo trovare delle aree che siano, va benissimo, ma ci sono anche altre aree. Io quando dico che esistono delle aree dismesse, ovviamente l'assessore Mascia lo sa benissimo, non gli insegna nulla, in Valbisagno, in Valpolcevra, in Valpolcevra abbiamo la grande opportunità della zona logistica semplificata, che ha dei vantaggi anche in termini di bonifica delle aree industriali dismesse per andare a bonificarle e utilizzarle. Magari non sono compatibili con quel progetto, quindi riapriamo il discorso. Però, ecco, quello che non vorrei si raccontasse, perché sarebbe davvero una favoletta, che quelle aree fino a ieri non interessavano a nessuna, ora che finalmente c'è l'interesse di qualcuno si apre il discorso. No, no, questo senz'altro. Poi ovviamente sono attaccate al mare, quindi immagino che nella logica ci si facciano degli approdi, altrimenti andrebbe bene anche un'area all'interno, anzi forse all'interno è meglio ancora, più vicino all'autostrada, è più piazzata, quindi questo è un po' anche il senso della Green Logistics Valley, come la si fa. Non deve neanche passare il messaggio che comunque chi fa sbaglia, perché c'è stata una manifestazione di interesse, benissimo, se ci sono altri soggetti interessati che esprimono, ci sono tra l'altro, è arrivata anche una seconda manifestazione di interesse da parte dei autotrasportatori che vogliono fare una logistica, diciamo, dei camion e francamente nel momento in cui ci sono delle imprese che si facciano avanti. Forse è possibile che la mossa del Comune sia stata quella di dire adesso noi facciamo vedere che questa roba ce l'abbiamo, che la si può utilizzare, mettiamo un po' di pressione anche da scegliere d'Italia, al governo, credo che abbia avuto anche una logica di questo tipo. Penso che il significato sia quello che ci sono delle quattro imprese di tutto rispetto che sono interessate ad una porzione di area. Questo è quello che si legge, diceva giustamente il senatore Basso, dobbiamo leggere le carte. Questa è una carta, carta canta e la carta è nero su bianco, ci sono quattro imprese che portano 400 posti di lavoro su 270 mila metri quadri di cui chiedono l'assegnazione. questa è, sono i fatti. Ora ripeto, non deve passare il messaggio che chi fa sbaglia, cioè se ci sono altri soggetti interessati che si facciano avanti, lo dicono apertamente, siamo in democrazia, facciamo, è ovvio, è ovvio, quindi non è che lo decidi con la spada diciamo sulla spalla, fai l'investitura e dici hai fatto la manifestazione di interesse, te lo dico è tua. Però se ce ne sono altre che si facciano avanti, il problema probabilmente di questa città a volte è che ci si perde un attimo nel veto incrociato, cioè tu non lo fare perché ci sono prima io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Invece non funziona così. Anche il coinvolgimento delle parti, che sicuramente è una questione assolutamente importante anche dal punto di vista della partecipazione dei territori, della partecipazione dei diversi stakeholder. È sacrosanto, però non vorrei che da fare i tavoli, come nella fila strocca, per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero e poi alla fine le decisioni ce le vediamo passare davanti e poi quando un sindaco come Bucci dice signori, sono quattro grandi aziende che vogliono insediarsi lì per fare la logistica, l'accordo di programma di fatto non è stato rispettato, le aree sono sottoutilizzate, ci sono 400 posti di lavoro sonanti che possono essere, diciamo, attivati e cosa facciamo noi? Iniziamo a dire no, allora se tu lo dici allora anch'io, allora anch'io ho altre imprese che però non ti dico, però ci sono altre aree che sono da un'altra parte, però non ti dico quali sono le aree, ma mica stiamo giocando a nascondino o alla caccia al tesoro. Io spero, come dire, assessore Marcia, ho troppa stima per lei per pensare che lei non sappia quale aree nel suo comune sono in questo momento non utilizzate. Noi abbiamo attivato la Genoa Business Unit che di fronte alle imprese che sono interessate a investire sul territorio offre, è una task force che offre urbanistica e sviluppo economico diciamo in sinergia per fare in modo che vi assicuro che non è così semplice trovare delle aree sul territorio genovese perché in teoria sono tante, in pratica di una certa consistenza non è facile trovarle. Noi ce la mettiamo tutta, stiamo facendo un lavoro grazie anche alle direzioni dello sviluppo economico e urbanistico, è veramente significativo, però avere 1 milione e 200 mila metri quadri, ora non tutti ovviamente perché se vogliamo preservare la siderologia comunque una parte, però avere una parte di questi 1 milione e 200 mila metri quadri che non viene utilizzata, che viene lasciata lì perché bisogna tener fermo tutto perché nessuno deve entrarci, perché non si sa perché, francamente mi sembra una... Mi sembra che... la risposta è perché non si sa mai, perché potremmo averne bisogno... Perché non si sa mai, esatto, non si sa mai, mani mani, mani mani... Di nuovo è una favola che non corrisponde ai fatti, quella è un'area che ha subito una trasformazione importante dovuta a un percorso che ha permesso di convertire un'area inquinata, perché tutti ci ricordiamo come era l'acceglieria quando c'era l'alto forno, le polveri che c'erano per chi viveva in quei quartieri e invece qual è la situazione attuale. C'è stata una crisi, una crisi dovuta a una responsabilità e su questo con invece sono d'accordo di Arsenal Mittal, c'è bisogno di fare qualcosa per provare a rilanciare l'acciaio e non c'è stata un'azione ad oggi per provare a fare questo rilancio anche staccando i destini di Genova e Novi da quelli di Taranto. Nel momento in cui si decide che si può aprire, si decide che si può aprire e si porterà avanti un percorso di evidenza pubblica ma non è che c'è qualcuno che ha altre idee, io ritengo come dire che la storia di questa città, la conosciamo tutti, è una storia interessata a quelle aree per il valore di quelle aree, c'è stato un interesse addirittura e qualcuno ha messo in discussione il fatto che rimanga l'aeroporto per l'interesse delle aree dell'aeroporto, allora noi non stiamo dicendo come dire di dire di no, stiamo dicendo che quelle aree, che le aree a mare del porto di Genova trovino sicuramente dei progetti, credo che sia un dato assodato, non raccontiamo favolette, perché quello altrimenti è. Diverso è, perché voglio anche dar ragione all'assessore dove concordo. Di fronte a una manifestazione di interesse nero su bianco, siano quelle di chi dice no, ma no, ma no, ma dire no, perché dobbiamo, le favole sono esattamente di chi critica dei fatti e dei documenti. Ma nessuno dice no, critica a priori, dire che non ci sia interesse per quelle aree è una favola, a mio avviso. Diverso è invece il ragionamento che trovo più serio di dire le aree ci sono, sono varie, sono sicuramente meno interessanti, è più difficile riuscire a bonificare, ripristinare aree che sono più sparse, che non hanno l'accesso al mare, che hanno meno valore. La mia domanda però è, fa bene secondo me il Comune ad accelerare, a provare ad accelerare una soluzione? Lei dice per esempio che non si è fatto niente per provare, rilanciare Genova e Novi, magari sganciandole dal destino di Taranto. Ovviamente non è una cosa che fa il Comune di Genova o la regione Liguria, neanche direi del tutto il governo, cioè è soprattutto una partita che si gioca all'interno di acceglierie d'Italia e il governo ovviamente può fare delle pressioni su questo. Il fatto di provare a mettere pressione a che una decisione venga presa, dimostra, guarda che io qui ho a ponte, che mi sta facendo un'offerta. È una questione, infatti quando dico che è una questione seria e che assolutamente va affrontata, significa che sicuramente quello è un percorso ed è un percorso anche virtuoso. Ma devo dire che quando ci siamo incontrati pochi giorni fa anche con il sindaco Bucci e aspetto la sua convocazione per portare l'elenco delle aree, come gli ho detto, ma abbiamo detto anche in maniera invece molto costruttiva che ci può essere anche la possibilità di fare un po' di pressione in questo senso ed è un meccanismo che io reputo virtuoso, ma ripeto, questo credo sia legittimo avere punti di vista diversi, ritengo ancora che mantenere l'acciaio e la manifattura e una componente forte in questa città sia utile per la ricchezza di questa città. Chiarissima la sua posizione, allora abbiamo da vedere che cosa dicono a casa, tra poco ci collegheremo anche con il sindacalista che ci porterà la visione dei lavoratori di Acceieri d'Italia, ma prima di tutto questo un brevissimo intervallo. Eccoci di nuovo in diretta, allora intanto saluto Apice che è collegato con noi, Nicola Apice, RSU, FIM, CISL delle Acceieri d'Italia, buonasera, grazie di essere con noi, eccolo lì, ma prima di andare da Apice abbiamo un impegno con i nostri amici a casa, i telespettatori che stanno scrivendo al 347-676-6291. E sì, partiamo proprio con i messaggi che ci arrivano questa sera direi molto polemici, c'è chi dice prima smontano le acciaierie per decenni costringendoci quindi a comprare l'acciaio all'estero, poi quando si pensa di fare dell'altro in quelle aree iniziano a dire che l'acciaieria dovrebbe espandersi, dunque e poi c'è chi invece propone ma perché non ci fanno ad esempio lo stadio così si toglie il casino in centro ogni volta che ci sono queste partite con anche un'autocensura, poi abbiamo anche chi scrive ora che le aziende hanno dato lavoro a migliaia di persone sono in fallimento come Ansal d'Energia oppure vengono depaperate come Lex Silva. Tutto questo per colpa di politici assenti, inesorabile decadenza che è iniziata con la sinistra ma che sarà portata a termine dalla destra Ligure per quanto riguarda la mia regione, questo è il messaggio di Antonella che vede tutto nero sicuramente così come invece c'è chi scrive ma di restituire invece qualcosa ai corniglianesi in termini di territorio non se ne parla mai? Ebbè certo, questo è un tema vecchio come la città ormai o meglio, come da quando sono state fatte delle divisioni abbastanza arbitrari in cui a Ponente si sono prediletti gli insediamenti industriali mentre a Levante evidentemente no. Mi viene da sorridere quando vogliono portare lo stadio cornigliano, secondo me Colnaghi voterebbe per portarlo a San Pier d'Arena però qua si aprirebbe una questione calcistica, sono sicuro che Colnaghi sarebbe contento, via tutto il porto davanti e lo stadio in acqua, lui lo vorrebbe, però sarebbe una roba più di cuore diciamo che non d'altro. Andiamo a salutare Apice, allora stiamo un po' parlando del vostro destino ed era giusto che ci foste anche voi a discutere di quello che sta per succedere o che potrebbe succedere. Qual è la vostra posizione rispetto a questa manifestazione di interesse di società della logistica per prendere una parte delle aree ex-ILVA? Sì, buonasera, tanto grazie dell'invito perché comunque le parti sociali sono sempre importanti da interpellare. La nostra realtà ormai purtroppo è sulla bocca della politica italiana da tanto tempo e non riusciamo a trovare ancora uno sbocco. Queste aree sono delle aree importantissime, sia per Genova, che fa la nostra regione, sia per la nazione. Il mondo politico continua a ribadire, a ripetere che l'acciaio, la strategia comunque industriale della siderurgia sia fondamentale in Italia e questo è quello che pensiamo anche noi, perché è normale che un paese come l'Italia, già privo di materie prime, andare a pensare di poter eliminare la filiera dell'acciaio è un'assurdità, è un'ipocrisia perché comunque il mercato dell'acciaio è ancora di prima necessità e tutto quello che diriverebbe da non avere il mercato dell'acciaio in Italia sarebbe soltanto un costo che farebbe soltanto di vita. Ma qual è la situazione attuale all'interno della vostra fabbrica? Quanta gente sta lavorando e quante invece in cassa integrazione? Allora attualmente gli impiegati all'interno dello stabilimento sono poco meno di mille, siamo a 970 circa che sono impiegati all'interno dello stabilimento. Non dimentichiamoci della parte di lavoratori di ILVA in AS che sono ancora, ILVA in AS significa ILVA in amministrazione straordinaria, che sono quella parte di lavoratori che ancora non hanno ricevuto una proposta di assunzione e sono in attesa. Sono in cassa integrazione a zero ore, con poi la società per Cornigliano che li aiuta, è così? Esatto, noi abbiamo fatto degli accordi che hanno tutelato comunque la dignità delle persone perché queste persone non sono in cassa integrazione ma riescono comunque a fare delle ore all'interno degli enti pubblici per ricevere quell'integrazione salariale che comunque consente alle famiglie di poter avere una dignità. Questo va avanti da parecchio tempo. Con l'ingresso di Arsenal Mittal si pensava di chiuderla questa storia, di chiudere la parte dei lavoratori in attesa, di chiudere la parte del rinnovamento dello stabilimento. Perché purtroppo noi sappiamo che questo stabilimento ormai è troppi anni che attende quegli investimenti che possano consentire il rilancio. Perché è vero che ora siamo 970, ma lì dentro potremmo lavorarci tranquillamente in 2000 persone. Come c'era ai tempi dei Riva, come ricordiamo ai tempi di Little Seedra che c'era ancora l'aria caldo, che ovviamente parliamo di oltre 10-14 mila persone. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che io ora sento parlare delle aree, di impiegare queste aree in altri modi. Facciamo attenzione perché la siderurgia, comunque la parte di lavorazione dell'acciaio porta tantissimi posti di lavoro. Quello che ahimè ho paura che non porti qualche altro tipo di progetto, oltre a avere sempre il timore di avere una certificazione della serietà delle aziende che verrebbero comunque a insidiarsi nelle aree, perché noi non è che non siamo d'accordo al fatto che all'interno più di un milione di metri quadrati di aree possa nascere qualcos'altro. Ma quello che nasce non deve andare a interferire con la lavorazione che ad oggi noi andiamo a fare, la lavorazione dello zincato, dello stagnato, prodotto, quindi della parte diciamo che va poi a toccare l'automotive, che va a toccare la filiera della latta, lo scatolame. Ed è un fabbisogno in Italia che ce n'è, noi produciamo circa 120-130 mila tonnellate l'anno di banda stagnata e cromata che sono le lattine in poche parole, sono le lattine per le conserve, sono le lattine anche per la parte diciamo non alimentare. E il fabbisogno richiesto in Italia è oltre gli 800 mila tonnellate, quindi il mercato ovviamente c'è. Potreste svilupparvi moltissimo. Senta Apice, mi dice quanti sono ancora quelli però che sono in amministrazione straordinaria, che non l'ho capito il numero? Siamo, sono 240 persone, sono 240 persone che sono circa, stazionano diciamo tra virgolette, fanno il loro lavoro, cercano di comunque rendersi utili da parecchi anni. Ci sono fatti anche io, qualche anno fa, ero impiegato all'interno di una scuola, facevo manutenzione all'interno della scuola, perché poi le capacità lavorative dei lavoratori di ILVA sono anche capacità diciamo non da poco, abbiamo elettricisti. Per chiudere Apice, mi descrivi un po' come è il rapporto con l'azienda, perché sembra quasi che appunto rispetto a certe istanze del territorio l'azienda si allontana. Non dico che se ne freghi, è un'espressione esagerata, però insomma dice io ho i miei problemi, quelle aree sono mie, sono in concessione a me e quindi non ne discuto neanche. Voi riuscite a interloquire con l'azienda o anche per voi è difficile capire quale possa essere la direzione. Questo piano industriale, per esempio, io è un po' che sento parlare del piano industriale dell'ILVA o meglio di Acceglierie d'Italia, però non riesco ancora ad avere una data in cui questo piano sarà presentato. Ma il piano industriale è abbastanza confuso nel senso perché siamo partiti dall'avvento di Arcelor Mittal con un piano di 4 miliardi di euro e ci siamo ritrovati a cambi di governo dove sono state cambiate comunque le regole in tavola che hanno fatto comunque fare del retrofrono all'azienda che poi successivamente ha ricambiato nome da Arcelor Mittal ad Acceglierie d'Italia e quindi anche i piani industriali arrivano ma poi vengono cambiati e poi non si capisce esattamente perché abbiamo visto anche dei bei progetti su Genova, dei bei progetti proprio di linee nuove, linee completamente nuove che andrebbero a sostituire quelle che ad oggi funzionano, andrebbero manutenute diversamente, sicuramente potrebbero produrre meglio e di più, però è ovvio che se fossero nuove sarebbe meglio, sarebbe l'ideale. E non rispondono tanto alle vostre sollecitazioni? Ma noi purtroppo combattiamo con problemi spesso quotidiani che riguardano i lavoratori nel loro piccolo, dalla gestione della cassa integrazione, perché comunque non ci dimentichiamo e non vogliamo dimenticare che Arcelor Mittal comunque ad oggi ha comunque aperto una cassa integrazione per i lavoratori all'interno, quindi i 970 che citavamo prima non sono 970 lavoratori che lavorano a tempo pieno, hanno comunque delle giornate di cassa integrazione che vanno a influire comunque sugli stipendi, sulla tredicesima, sulle ferie e questo purtroppo a noi ci rende la vita difficile perché siamo a rincorrere comunque e cercare di fare degli accordi per tutelare e per cercare di fare una rotazione all'interno dello stabilimento che sia più equa possibile in modo da gravare meno sulle singole famiglie. Molto chiaro, grazie mille Nicola Apice, la vostra posizione è chiara, l'abbiamo raccontata tante volte ma ci tenevo ad avervi anche stasera, grazie mille a Nicola Apice che è il RSU di Fimcisla all'interno delle acceierie d'Italia, questo è il tema, ne dibatteremo ancora perché ho l'impressione che non avremo risposta in tempi brevissimi ma insomma staremo a vedere, magari qualche cosa si muove. Tema invece dei depositi chimici, il famoso insediamento industriale che si trova a Multedo e che secondo i progetti dovrebbe spostarsi a San Pierdarena. Colnaghi, mi racconti le ultime novità perché è come tutte le notizie, ci sono dei giorni e settimane in cui non si parla d'altro e poi magari per dei mesi rimangono nel dimenticatoio. Qual è lo stato dell'arte a oggi, 19 dicembre? Prima di tutto mi permetta di fare una precisazione perché lei ha parlato di spostamento. Allora, se andiamo a leggere la documentazione, si parla di 77 mila metri quadrati, 75 serbatoi tutti fuori terra e materiali movimentati per 400 mila tonnellate. Attualmente sappiamo che i materiali movimentati sono tra i 100, 100 mila e i 130 mila tonnellate. Quindi in realtà i materiali... Spostamento con rinforzo insomma. Eh, sarebbero quattro volte tanto i materiali movimentati. Con un numero di tire, questo tutto da documentazione quindi non mi invento niente, 30 tira al giorno sulle nostre strade più o meno un treno ogni tre giorni. Che poi è lì anche da capire dove passerà questo treno, visto che il sindaco ha detto che farà un'ordinanza per cui non passeranno per la Santa Limbania. Non so da dove usciranno questi treni, probabilmente dalla sommergibile. Vabbè, ma queste sono tutte cose tecniche in più. E quindi dove siamo arrivati? Come sappiamo è stata presentata questa richiesta a Roma. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha risposto in maniera molto interlocutoria ponendo tantissimi dubbi. Noi, vabbè, con i nostri legali abbiamo fatto subito ricorso un po' al buio perché i documenti non c'erano stati consegnati. Poi abbiamo fatto dei motivi aggiuntivi quando c'è stata la prima risposta e poi c'è stata una seconda risposta di nuovo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in cui però si mettevano in evidenza alcuni punti importanti che sono lo scarso approfondimento delle possibili implicazioni ambientali, il traffico su strada e quindi all'interno del quartiere, il traffico portuale perché come sappiamo c'è una regola della capitaneria che impedisce il passaggio di navi cisterna e l'ormeggio su Ponte Somalia, il parere dell'ENAC perché il parere dell'ENAC dice che non ci devono essere azioni, quindi non installazioni, azioni con materiali incendiari e esplosivi come sono quelli che vengono movimentati da Superbo e Carmagnani all'interno dell'area sorvolata dagli aerei. Quindi ci sono tutta una serie di tematiche che sono in discussione, che abbiamo sollevato e che non sono ancora state risolte, o comunque non è stato presentato un piano chiaro da Superbo e Carmagnani. Queste sono tutte cose che sono ancora da chiarire. Siamo stati finalmente ricevuti da autorità portuale due settimane fa più o meno. C'è stato detto che non esiste ancora un piano definitivo di questo spostamento e di questo insediamento, solamente un piano provvisorio. Dicono che stanno attendendo in questi giorni una sorta di piano definitivo, però attenzione, al di là di quello che vogliono vendere, come è già fatto, anche quando presenteranno il piano definitivo, poi mancheranno tutti questi pareri. Tutti questi pareri vuol dire l'ENAC, vuol dire il cambio di un regolamento di autorità portuale. Sappiamo questa regola che fu scritta nel 2001. Quello che mi risulta un po' strano leggendo la documentazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è che venga scritto che danno il permesso dell'ATF quindi di cominciare a costruire, però dicono che un domani si cambierà l'ordinanza. A me questa è una cosa che proprio non riesco a comprendere. Se domani questa ordinanza non cambia... Sì, poi ci sarà eventualmente una deroga, immagino, perché non è che puoi buttare giù il lavoro già fatto, quindi insomma diventerebbe... Ho capito naturalmente l'incongruenza che lei notava. Ora, naturalmente l'assessore Mascia non ha la competenza, proprio come dire dal punto di vista amministrativo, per rispondere alla questione dello spostamento dei depositi, perché questo è il ruolo che spetta al suo collega Maresca, che si occupa di Porto. L'abbiamo anche invitato, ma non gli abbiamo dato il tempo fisico per poter accettare. L'invito è stato veramente mandato troppe ore, poche ore prima di questa trasmissione, quindi lo riavremo, sicuramente ne parleremo anche con lui. Però certo che dal punto di vista amministrativo una città come Genova, in cui tu, a un certo punto, il sindaco Bucci, una delle prime cose che fece, promise a Multedo, questa situazione va cambiata, sposteremo i depositi, un conto è far felici quelli di Multedo, un altro poi trovarlo il posto, dove all'interno di una città si possa mettere un'attività come questa, che può essere più o meno pericolosa, a seconda ognuno poi dice la sua e cita i suoi dati, però insomma è chiaro che non è gradita, non è facile farla gradire. A Multedo erano gli stabilimenti a 5 metri dalle case, francamente mi sembra una situazione veramente insostenibile. Io mi chiedo sempre qual è l'alternativa che viene prospettata da chi non condivide questa opzione. Se l'alternativa è cancellare l'attività industriale e quindi i posti di lavoro e quindi il reddito per i lavoratori e per le famiglie, non è un'alternativa. È un po' curiosa la posizione di chi tende a preservare posti di lavoro sulla carta in 1200 dell'accordo di programma dell'area Exilva, che sono sulla carta, infatti lei ha fatto fare il calcolo del pallottoliere, i 970 occupati che neanche sono tutti a tempo pieno, poi ce ne sono 240 che sono in amministrazione straordinaria, che stazionano, ecco il termine che ha usato il rappresentante sindacale e stazionare, che non è esattamente un lavoro, credo, dignitoso neanche per nessuno. Ecco, la posizione di chi difende e contesta quindi una semplice manifestazione di interesse per incrementare i 400 unità lavorative, diciamo l'insediamento nell'area Exilva e chi poi contemporaneamente va a contestare, quindi difende i posti di lavoro sulla carta e contesta i posti di lavoro in carne ed ossa di chi in superbe carmaniani ci lavora e non possono sicuramente rimanere sospesi tra il cielo e la terra. Bisognerebbe, perdoni il senatore, ma bisognerebbe veramente volare basso in questi casi e cercare un attimino di considerare quali interessi e quali esigenze concrete ci sono in campo. Ripeto, se in tutta questa partita del trasferimento non si stiene conto che ci sono di mezzo dei lavoratori che rischiano di non avere veramente un ubicon system e un luogo dove rendere la loro prestazione, veramente si vola anche troppo alto e si vola troppo innastratto rispetto alle esigenze concrete che sono quelle che poi la città ci chiede di soddisfare. Senatore Basso, lei che adesso hai fatto? Io, mentre, come dicevo prima, sulla parte dell'IVA penso che sia un problema che vada affrontato e credo che alla fine anche in un confronto, partendo da posizioni diverse, si potrà lavorare per provare a dare un contributo positivo. Io sul tema invece dei depositi chimici sono davvero fortemente contrario e contrariato. non solo condivido la posizione del municipio, dei comitati, delle officine sempre aderenesi, ma mi domando anche per quale motivo ci sia davvero, come dire, in questo momento questa volontà di andare su una soluzione che tante problematiche ha visto. Perché, giustamente, come dire, bisogna farsi carico dei lavori di tutti, però dobbiamo anche renderci conto di tutti i posti di lavoro che sono a rischio. Ma noi stiamo parlando di un insediamento che ha comunque dei profili di pericolo, dei profili ambientali, consiglio, come dire, veniva ricordato un attimo fa, un insediamento che comunque sia avrà 30 milioni di euro di soldi pubblici. Ora, se volete che vi racconti cosa si può fare con 30 milioni di euro di soldi pubblici per aziende pulite, in grado di creare occupazione, start-up giovani o altre forme di impresa, non ho bisogno di raccontarlo perché l'assessore lo sa molto meglio di me. Allora, il tema di fondo è, quella dei depositi chimici a San Piero d'Arena non si spiega. Io non riesco a spiegarla. Riesce a mettere in difficoltà per aziende che lavorano in quel tratto portuale, riesce a far perdere ore di lavoro e quindi posti di lavoro alla compagnia, riesce a mettere in difficoltà, abbiamo sentito le parole di Grimaldi e tutti i posti di lavoro che si perderebbero, per andare a creare nuovi depositi molto più impattanti rispetto ai precedenti. Ha ragione l'assessore Mascia, da Multedo vanno tolti. Quella di Multedo è la soluzione peggiore. Posso dire una cosa però... Ma quella soluzione è una soluzione inaccettabile. Non mi si può dire vuoi essere bruciato a rogo o vuoi essere bruciato lentamente. Non è che possono esserci solo due soluzioni che siano entrambi inaccettabili. Il problema che serve è capire qual è l'alternativa. Ecco, volevo capire perché di opzione zero... Su l'ILVA non c'è nessuna alternativa. Sui depositi chimici non c'è nessuna alternativa prospettata di chi contesta le scelte dell'amministrazione. Ma perché continuate a dire che non c'è nessuna alternativa? Non ho capito veramente che gioco stiamo giocando. Stiamo un attimo sui depositi. Stiamo sulla vicenda dei depositi. Giochiamo un gioco di scatti su una scacchiera che... Quale potrebbe essere l'alternativa geografica Se non l'opzione zero che è quella di cui abbiamo parlato anche noi. Ripeto, infatti esistono due cose diverse perché non si può continuare a fare confusione tanto per... Allora, il tema ILVA è un tema importante, un tema che riguarda migliaia di posti di lavoro su cui ci sono varie soluzioni alternative su cui abbiamo detto si può discutere, provare a vedere se anche confrontandosi si riesce a trovare una soluzione. E questa è l'ILVA. Sul tema dei depositi chimici non esiste... Esiste anche l'opzione zero. Non è quella che io prediligo. Penso che ci possano essere altre, ora le dico. Ma esiste per me anche l'opzione zero. Perché se nel momento in cui quell'insediamento va a far perdere più posti di lavoro di quelli che permette di guadagnare va a mettere in difficoltà un intero quartiere crea una situazione di pericolo Non mandiamo a casa tutti i lavoratori. No, non mandiamo a casa perché ci sono mille strumenti e voi lo sapete molto bene per sostenere i lavoratori per trovare alternative ai lavoratori stiamo parlando di 30 milioni di euro di soldi pubblici per quanti lavoratori e voi non mi potete dire che il comune di Genova non è in grado di venire incontro a questo se questa è una condizione di sicurezza per le persone. Allora, il tema di fondo è che esistono possono esistere noi siamo di fronte a investimenti su questo porto per quanti miliardi? Lo dice sempre il sindaco Bucci abbiamo tra la Diga e tutti gli altri investimenti oltre 4 miliardi di euro 4 miliardi di euro io dico c'è un piano regolatore portuale che deve ridisegnare il porto per i prossimi cent'anni avremo una nuova Diga e io credo che quello sia il momento il luogo dove i tecnici i vari stakeholder si possono confrontare e vedere quelle che sono altre soluzioni comprese quelle inerenti alle nuove opere accessorie alla Diga che potrebbero essere e consentire di mantenere quei posti di lavoro non si sa però quali siamo ma se non è possibile fare quello in 4 miliardi di euro di investimenti l'idea che dobbiamo per forza andare a far perdere posti di lavoro in porto posti di lavoro della compagnia portuale permettere depositi chimici mettendo a rischio un intero quartiere facendo perdere il valore immobiliare a un intero quartiere mettendo a rischio chi lavora in quel quartiere per tutte le persone che si sposteranno io non credo che tutto cambi perché nulla cambi lei Basso dice quando dice un'alternativa sarebbe diciamo sulla Diga io dico che esistono opere accessorie alla Diga questa nuova Diga è una Diga come dire che ha un impatto enorme vale 1,3 miliardi 1.300 milioni di euro che come dire sta partendo ora io credo che persone esperte intorno a un tavolo siano in grado di valutare la possibilità se non è fattibile se non c'è un luogo se con quelle risorse non è possibile farlo l'opzione zero secondo me non è un'opzione da trascurare ma lo dico non volendo andare verso quella soluzione ma non possiamo continuare a dire che il sindaco Bucci dice A o B e noi dobbiamo scegliere tra A e B siamo persone che si possono mettere intorno a un tavolo e valutare no, no, voi avete scelto avete scelto sempre di dire sì voi volete dire sempre sì ma esiste esiste altre possibilità andate per slogan e troverete consenso ma io credo che non risolveremo i problemi e i depositi chimici a San Piero d'Arena sono una grandissima problematica e non volete farvene carico ma fra 50 anni qualcuno giudicherà queste azioni che state facendo con i soldi pubblici posizioni chiarissime ma scusi ma come non vogliamo farne carico cioè se stiamo prospettando invece delle soluzioni è proprio l'inverso noi ce ne facciamo carico e diamo delle soluzioni c'è una manifestazione di interesse sull'ILVA e mi pare di capire che a questo punto tutto questo vetto incrociato sulla logistica non ci sia neanche da senatore basso e quello è il primo sui depositi ci siamo peritati di andare in una direzione che il trasferimento potesse lì a Somalia quindi abbiamo assunto una decisione e adesso ci viene contestato che non ci vogliamo prendere carico e la nostra responsabilità le lancio la provocazione di un telespettatore che aveva scritto poco fa sei sicuro di spostarli lì si trasferisce a San Piero d'Arena lei con il sindaco? ma perché no? ma andiamo a San Piero d'Arena io penso che purtroppo la situazione dei depositi sia diciamo vittima di un disegno anche allarmistico che è creato ad hoc perché voglio vedere se il consiglio generale dei lavori pubblici che si è spesso comunque un parere favorevole anche condizionato ma comunque a determinati aspetti di verifica ulteriore ovvio ma è favorevole voglio vedere se il consiglio generale dei lavori pubblici dà l'ok e la paletta verde una soluzione che potrebbe veramente attivare quello scenario apocalittico di cui è stato poc'anzi delineato che è stato poc'anzi delineato con impatto ambientale catastrofico e i rischi del traffico l'enaca e quant'altro dai non cerchiamo veramente di non seminare allarmi ingiustificati di tener conto quelli che sono gli interessi in campo che sono anche quelli dei lavoratori che lavorano a Superba e Carnagliani cerchiamo di assumerci in politica le responsabilità perché a fare la logica al vetro incrociato siamo tutti capaci ad assumerci le responsabilità purtroppo è di pochi Connaghi la posizione in un flash perché siamo in chiusura di questo blocco ma la posizione del presidente del municipio ovviamente è quella di difendere le prerogative del municipio su questo non c'è dubbio ma provi a fare uno sguardo più di insieme per lei ci sarebbe solo l'opzione zero cioè se lei fosse presidente di un qualunque altro municipio farebbe la stessa campagna immagino Innanzitutto mi lascio dire che da dati ufficiali si perdono 10.000 turni di lavoro e 60.000 ore di lavoro in porto Grimaldi ha detto che perderanno 8 posti di lavoro che sono più di 300 e Forest S.p.A. ha detto che se ne andranno perché non ci sarà più il traffico della cellulosa ora mi sembra che il ricatto occupazionale qua non è che funziona tanto se non vogliamo pensare alla salute all'ambiente tra l'altro nella documentazione di Superba c'è scritto che in caso di esplosione i frammenti possono arrivare fino a 800 metri quindi voglio dire va bene ce ne vogliamo fregare della salute bene pensiamo almeno all'occupazione cosa ne farei se ci fosse l'opzione zero tante industrie si sono convertite e i dipendenti assolutamente non hanno perso il posto di lavoro ne potrei fare tantissimi di esempi questa potrebbe essere una strada vogliamo indicare altre strade c'è il discorso della Diga Vado Ligure è stata valutata insomma quando c'è stata prospettata l'idea di metterle a San Pier d'Arena le tre opzioni erano tutte a San Pier d'Arena poi è saltata fuori Ponte Somalia che non c'entrava niente non era neanche menzionata tra le tre opzioni però si è scelta comunque San Pier d'Arena oltretutto visto che facciamo catastrofismo nel pontile accanto che è l'Etiopia vengono scaricate le armi ma io dico questa è una vicissima città non so se come dire non so se ci sia un nesso tra la presenza un'esplosione potrebbe lei dice ci sono magari le bombe vabbè comunque diciamo così ci sono su questo mi sento di dirlo ovviamente degli organismi preposti che non sono politici ma sono organismi di controllo che ci diranno se quell'area potrà teoricamente ospitare quei depositi poi tra il teoricamente il praticamente vedremo come andranno anche le vostre istanze diciamo così di tipo legale grazie al presidente Colnaghi grazie di essere stato con noi grazie a voi ci metteremo lo stadio dai le faremo questa le faremo questa questo regalo grazie a Mario Mascia assessore al lavoro del comune di Genova e naturalmente tanti auguri di buone feste grazie a Lorenzo Basso senatore del partito democratico grazie tra poco cambiamo ospite prendete l'autobus voi sai che tra un po' si prenderà gratis l'autobus a Genova eh sì vediamo se sarà così se è sostenibile o meno e soprattutto cosa ne pensa l'assessore Matteo Campore Matteo Campore che sarà nostro ospite tra poco restate con noi eccoci di nuovo insieme al programma politico ancora buonasera Silvia Isola buonasera Matteo cambiamo platea e buonasera l'abbiamo annunciato all'assessore ai trasporti e all'ambiente del comune di Genova Matteo Campora grazie di essere con noi grazie a voi che ringrazio per averci concesso questa intervista che parte ovviamente da quello che giornalisticamente abbiamo definito come il terremoto di AMT con le dimissioni del presidente Beltrami possiamo provare a capire in quale quadro sono maturate è vero quello che dice Bucci e cioè ma non se la sentiva più poi sentiremo prima o poi anche Beltrami cosa ci dirà oppure si erano create delle condizioni negative nell'azienda per la permanenza dello stesso presidente no direi che la situazione in AMT o comunque i rapporti con il presidente sono sempre stati sono sempre stati ottimi è vero che Beltrami è da sei anni che era presidente di AMT e quindi comunque erano diversi anni che portava avanti questa sua tra virgolette missione è riuscito a portare dei risultati importanti come anche l'affidamento del bacino extraurbano quindi possiamo dire che a completamento di quello che è il suo mandato che sarebbe scaduto poi a giugno ha portato delle novità importanti un bilancio assolutamente positivo è una sua decisione che è una decisione assolutamente personale naturalmente da parte da parte nostra da parte del sindaco da parte della proprietà vi era la massima fiducia è una decisione che ha preso che naturalmente rispettiamo poi le motivazioni le conosce le conosce lui ma posso dire che il bilancio dei suoi sei anni è estremamente positivo sembrava ma ancora una volta non abbiamo la conferma ufficiale di Beltrami che ancora formalmente non ci ha parlato che uno dei temi che aveva alzato il livello dello scontro che comunque aveva generato qualche tensione era quello della proroga della gratuità di una parte dei servizi D.M.T. la metropolitana per fasce orari la funicolare le funicolari e gli ascensori che sono invece totalmente gratuiti quasi come se il problema fosse non abbiamo diciamo al momento la garanzia della copertura di quella parte di bilancio perso è un problema vero oppure no? No non è un problema la gratuità non rappresenta un problema è una scelta che è stata fatta sostenuta dall'amministrazione ma è una scelta dell'azienda che noi sosteniamo perché abbiamo il progetto di arrivare alla gratuità non rappresenta però un problema dal punto di vista del bilancio oggi i problemi del bilancio sono determinate da altri fattori che sono quei fattori che stanno mettendo in difficoltà tutto il sistema del trasporto pubblico nazionale e mi riferisco soprattutto al fatto che non siamo più tornati ai livelli pre-covid come passeggeri e quindi tutte le società hanno una situazione di grande difficoltà alcune hanno chiuso anche con 20 30 milioni di euro di deficit quindi la gratuità oggi non rappresenta un problema i problemi sono altri e sono legati al fatto che dobbiamo tornare livelli di passeggeri di occupazione del mezzo pre-covid su questo aspetto proprio alcune aziende di trasporto di altre regioni o di altre città come ad esempio Milano hanno già annunciato nel 2023 addirittura di voler aumentare il prezzo del biglietto proprio perché mancano da parte anche del governo forse quelle garanzie per ristorare le varie aziende e non è più sostenibile andare avanti come può fare allora il comune di Genova visto che la situazione in realtà è comune a tutta Italia addirittura fare una manovra come quella di garantire i mezzi di trasporto pubblici gratuiti allora tanto occorre una presa d'atto da parte del governo che devo dire è attento a queste problematiche abbiamo anche la fortuna di avere un vice ministro Edoardo Rixi col quale siamo costantemente in contatto noi sappiamo che il trasporto pubblico locale è un servizio pubblico che si basa sostanzialmente sulla base di trasferimenti da parte dello Stato nel caso di Genova questi trasferimenti ammontano grossomodo ai due terzi quindi un terzo è dato dalla bigliettazione e due terzi è dato da trasferimenti crediamo che nella legge di bilancio verranno confermate con la quota di ristori covid che permetteranno comunque di chiudere anche il 2022 con il segno il segno più però guardando avanti noi dobbiamo pensare ad offrire sempre più servizi e la sfida è di portare le persone dall'utilizzo del mezzo privato all'utilizzo del mezzo pubblico noi dobbiamo spostare le persone spostando le persone andremo anche ad avere più introiti ecco in questo senso naturalmente poi magari adesso ne parliamo delle possibilità future anche di AMT su questo piano cioè nella estensione della gratuità è interessante credo diciamo sottolineare la cifra di cui lei ha parlato assessore cioè che solo un terzo del fatturato di AMT è derivante dalla bigliettazione la copertura dei costi viene già oggi attraverso due terzi di fiscalità generale cioè del lavoro che il comune fa per finanziare l'azienda quindi di fatto quando si parla di bus gratuito sarebbe il terzo che ancora manca rispetto a quello che già il sistema da solo produce però volevo chiederle un istante di fare un passo indietro perché c'è stato un momento in cui Genova ha deciso di tenere in house il servizio di trasporto pubblico locale mentre altre città ovviamente Cremona è un caso che ho conosciuto personalmente e anche altri hanno deciso invece di privatizzare questo servizio alla luce dei problemi che ovviamente una gestione così complessa comporta è stata una buona scelta? Beh è stata un'ottima scelta io credo le politiche sulle partecipate che abbiamo portato avanti sono proprio state incentrate sugli affidamenti in house la stessa cosa abbiamo fatto su AMIU e la stessa cosa lo si è fatta anche su MT soprattutto l'obiettivo è stato quello di allargare comunque l'area di intervento delle nostre partecipate nel caso di MT attraverso incorporazione di ATP e attraverso meglio l'affidamento di MT di tutto il trasporto urbano e extraurbano abbiamo ampliato il raggio d'azione io sono dell'idea che il comune debba sempre essere presente all'interno delle partecipate proprio perché le partecipate vanno a dare al cittadino un servizio di natura pubblica quindi nel momento in cui abbiamo privati al 100% saremo meno in grado anche di influenzare le scelte e anche di intervenire sui servizi è chiaro che la discussione tra affidamenti privati e affidamento al pubblico è una discussione di natura anche politica economica estremamente complessa ma nella mia esperienza di assessore posso dire che avere la possibilità di intervenire di agire attraverso una società partecipata ti dà la possibilità di toccare con mani di intervenire laddove ci sono delle necessità che i cittadini richiedono venerdì l'assemblea dei soci di AMT attribuirà la delega presidenziale a Ilaria Gavuglio chi è? Costei? Ilaria Gavuglio è diciamo una delle possibili candidate ma il nome è già uscito anche sui giornali quindi è la più probabile e Ilaria Gavuglio è una professionista un commercialista che ha già collaborato con aziende partecipate del Comune di Gema da molti anni ancora prima che si insediasse la Giunta Bucci è una persona che conosce soprattutto bene MT perché è presidente del Collegio dei Revisori e quindi è una professionista che noi riteniamo nel momento in cui venerdì verrà confermata che possa avere quelle qualità necessarie per portare avanti comunque l'ottimo lavoro del presidente Beltrani curiosità da giornalista in piccione ma visto che non abbiamo praticamente un'immagine della dottoressa Gavuglio è pronta per un ruolo di grande visibilità come quello di MT perché siccome non è che fosse negli Stati Uniti fino a ieri anzi aveva impegni di primo piano in tante aziende ovviamente non aveva una presidenza che è un ruolo molto di visibilità insomma è pronta a venire in televisione a parlare con la stampa a gestire tutta questa parte che comunque c'è fare il presidente di una società che comunque è una delle più grandi società e peraltro sarebbe forse una delle poche donne presidente di una società cioè molto bello finalmente anche questo è un po' diciamo un cambio un segnale è una società che ha più di 2000 dipendenti noi riteniamo di sì chiaramente avrà necessità di abituarsi magari a fare le interviste piuttosto che avere contatti con i mass media però nel caso magari la manderemo da lei per qualche ripetizione si è parlato e lo abbiamo raccontato anche sui nostri canali social creando un po' di dibattito appunto di area C all'interno del centro di Genova quindi con l'istituzione di un pedaggio per garantire la possibilità appunto di avere dei mezzi pubblici gratuiti e per andare a finanziare quel terzo che manca da parte dell'amministrazione comunale per evitare appunto la bigliettazione per questo però ci sono alcune rimostranze da parte dei cittadini ovvero mi va bene ma devo poter arrivare in centro quando voglio all'ora che voglio e con grande facilità altrimenti il mezzo privato per me risulta l'unica alternativa percorribile specialmente da diverse zone più lontane della città non bastano forse i 5 assi oppure avete in mente anche di potenziare altri tipi di trasporto anche attraverso reti di bus più piccoli la frequenza gli orari parcheggi di interscambio che sono diciamo fondamentali in questo rapporto diciamo così multimodale come si dice quanto dicono i cittadini lo sottoscrivo perché nel momento in cui io ti chiedo di lasciare la macchina a casa ti devo dare un servizio adeguato peraltro registriamo che per quanto riguarda le matricolazioni Genova è la città che ha un rapporto con le matricolazioni più basso d'Italia la prima città è Venezia che però vi ha ragioni non utilizzano molto l'auto e secondo siamo noi quindi già abbiamo un tasso di matricolazione molto basso rispetto alle altre città il piano è un piano molto ampio che riguarda la creazione di varchi di entrate in città riguarda la mappatura di tutti coloro che arrivano da fuori Genova attraverso i caselli autostradali di Aspi e c'è anche un tavolo di Aspi con free to X all'interno di quello che è il risarcimento previsto anche a seguito del crollo del Ponte Morandi che servirà anche a infrastrutturare la mobilità dal punto di vista informatico poi ricordiamo che abbiamo un miliardo e tre quattrocento milioni di euro pronti da essere investiti quindi per andare attraverso macro aree andremo a triplicare la lunghezza della metropolitana che quindi arriverà tra 5 e 6 anni da Brignole fino a Molasana a Ponte Fleming arriveremo a San Martino si arriverà poi a Rivarolo e abbiamo in progettazione di chiedere i finanziamenti per una nuova linea di Negro Fiumara quindi San Pier d'Arena con quattro fermate e all'interno di questo progetto abbiamo lo Sky Metro a questa aggiungiamo anche la funicolare di Erzelli quindi il People Mover che collegherà l'aeroporto alla nuova stazione ferroviaria dell'aeroporto e dall'aeroporto avremo la funicolare una funicolare moderna che in quattro minuti porterà 4.000 persone ora all'ora direttamente su Erzelli quindi RFI su questo cioè la rete ferroviaria che deve realizzare la stazione sta parlando la vostra stessa lingua perché sì noi stiamo compatibilizzando i progetti già i progetti viaggiano insieme una arriverà in stazione e poi un piano un po' più alto ci sarà l'aggancio quindi la stazione della funicolare e poi abbiamo la grande scommessa su questo ferrovie ci devono dare una grossa mano che è quella di avere la metromare quindi di utilizzare i treni che attualmente viaggiano sulla costa sulla litorania come una metro e quindi si arriverà delle frequenze nell'ordine dei 7 minuti questo secondo i nuovi progetti dal 2025 diciamo di Trenitalia con un biglietto integrato col biglietto integrato anche su questo non siamo siamo una delle poche città che ha il biglietto integrato quindi io ritengo che tra 4-5 anni grosso modo saremo in grado di offrire un servizio tale per cui alla fine il cittadino potrà scegliere il trasporto pubblico e questo è veramente molto molto positivo sul discorso dell'area C avete individuato il perimetro diciamo dove inserire poi fisicamente l'imposizione del pedaggio perché Genova non è Milano pensare di finanziare il trasporto pubblico locale facendo pagare le auto che entrano in via 20 settembre dei Ferrari via Dante non è fattibile perché non ci entra quasi nessuno non è quello il luogo dove c'è il vero traffico il vero traffico è sui direttrici diciamo levante e ponente per esempio la sopraelevata sarà a pagamento? la sopraelevata non sarà non sarà a pagamento ma la sopraelevata poi dovrebbe essere superata dal tunnel supportuale quindi abbiamo anche questo elemento che andrà a modificare la viabilità è evidente che bisognerà mantenere dei tratti di strada che possono permettere comunque il passaggio in città penso al tunnel supportuale che naturalmente rappresenta una via attraverso il quale io collego ponente e levante quindi quello sarà gratuito? sì in questo momento noi stiamo studiando c'è un tavolo c'è un gruppo di lavoro tecnico dove abbiamo Arcangelo Marella il professore Enrico Musso l'università Free2X ed altri soggetti che stanno facendo questo lavoro di mappatura della città di mappatura di quelli che sono i flussi ma l'idea è quella poi di creare dei varchi concentrici dalla parte più estrema della città e poi di modularli a seconda di quelle che saranno le esigenze ma soprattutto a seconda di quelle che saranno i livelli di inquinamento ricordiamoci che alla fine poi quello che fa determinate scelte è legato all'inquinamento perché dentro comunque ci deve essere tutto nel senso deve starci la questione chiaramente dell'inquinamento e quindi di una città più pulita ma anche del finanziamento di una parte del trasporto pubblico locale se pensate di prenderlo da lì voi a budget dovete scrivere da lì arrivano questi soldi noi stiamo individuando quelle che sono le fonti di approvvigionamento di quel terzo che è grossomodo un po' più di 70 milioni di euro per indicare una cifra è una cifra importante però la gratuità è gratuità nel senso che non faccio il biglietto ma il pagamento comunque del trasporto pubblico deve essere garantito in qualche in qualche maniera è un lavoro importante siamo abbiamo 70 milioni diviso 5 euro facciamo potrebbe essere la congestion charge vediamo visto quante macchine devono passare sono tante infatti secondo me occorreranno diverse fonti di finanziamento che non potranno essere soltanto coloro che entrano e questo è lo studio che è in atto io penso che nel 2023 saremo in grado di concludere la fase di studio per individuare anche l'infrastruttura tecnologica perché anche l'infrastruttura tecnologica sarà importante perché a fianco a questo abbiamo il tema delle merci quindi all'interno di questo tavolo avremo anche la questione legata alla gestione del traffico su gomma che molto spesso rappresenta un peso sulla città e che sarà speriamo finalmente separato a quei lavori che stanno facendo adesso all'interno del porto proprio per la gestione dei due tipi di traffico pesante e leggero e di sera barra di notte anche perché avere un trasporto pubblico locale che funziona molto bene con anche l'orario notturno può anche aiutare intanto i giovanissimi a lasciare spesso l'auto e il motorino a casa ed evitare anche poi di tornare a casa magari mettendosi in pericolo con incidenti stradali e poi di certo rende la città ancora più viva sì tanto quando parliamo di trasporto pubblico parliamo di parliamo di autobus parliamo di metropolitana ma in qualche maniera io metto all'interno del trasporto pubblico anche lo sharing sempre più ragazzi utilizzano il trasporto pubblico alla sera basta vedere anche il primavere estate il 15 che arriva da Nervi quanto è frequentato in questi giorni abbiamo riattivato il servizio di sharing con ZigZag e con Axpo e già nei primi due giorni abbiamo già avuto un motorini elettrici sì hanno già avevamo Mimoto che poi aveva interrotto il servizio è stato fatto un altro bando si è partiti con i primi 100 mezzi che possono essere utilizzati non solo in centro città ma anche nelle periferie e abbiamo già visto che questo mezzo già nei primi giorni ha avuto un boom di richieste e l'obiettivo è di arrivare da 100 a 750 scooter sulla città un mezzo veloce un mezzo che uno può riuscire a individuare in tante zone e costa comunque è un costo contenuto con un'app si vede dove si trova il mezzo noi dobbiamo essere in grado però di dare una risposta a questo tipo di domanda che quando ero ragazzo io non era così cioè la gente andava tendenzialmente più in macchina andava col motorino si andava meno oggi i ragazzi hanno meno l'auto e vanno giustamente bisogna fare un plauso per questo per questo vanno sul mezzo pubblico lo utilizzano e questo è un elemento per noi estremamente positivo chiediamo gli ultimi minuti che ci restano con l'altro pezzo della sua delega perché lei deve sapere che io sono in lite continuo in casa su che cosa questo lo metto qui il cartone va messo qua no ma questo è misto allora forse vanno indifferenziato perché adesso AMIU è pronta a fare multe pesanti per quelli che non fanno bene la raccolta differenziata è una situazione veramente così siamo così indietro che è necessaria l'arma anche della coercizione e della paura beh l'arma della paura diciamo la si vuole utilizzare il meno possibile ma in alcuni casi è necessario utilizzarla noi abbiamo implementato questa sanzione da 50 euro a 300 però voglio anche dire che abbiamo dei segnali positivi perché il nuovo sistema del bilaterale che è stato già utilizzato anche a Spezia pur con delle criticità iniziali che sono proprie di questo nuovo sistema cioè la gente deve abituarsi non deve lasciare fuori i sacchetti laddove sono stati messi i bidoni sono già circa 2000 abbiamo avuto un incremento la differenziata è di al 57% a fronte di una media che è intorno sul 43% normalmente quindi abbiamo dei segnali positivi quindi le persone rispondono però ci sono ancora delle zone della città dove abbiamo ancora un numero di incivili eccessivamente alto ieri mi è arrivata una foto da Begatto da parte di una persona che ha fatto una foto ad un'auto e quest'auto noi oggi la foto l'abbiamo girata dalla polizia locale e domani mattina questa persona è convocata dalla polizia locale quindi questo era un cittadino quest'auto gettava cose aveva abbandonato un cartone con degli oggetti degli ingombranti è importante che controlliamo il territorio è importante che i cittadini senza ovviamente rischiare la propria incolumità ci possano segnalare anche queste situazioni perché anche con un semplice whatsapp siamo in grado di intervenire e di far di denunciare e di chiamare la persona che ha fatto la tragressione assieme alle multe aumenterete anche però il sistema invece di premi che forse anche quello è un modo per incentivare ancora di più le persone magari non soltanto per la plastica con plastipremia ma si potrebbe anche pensarlo per tutte le altre tipologie di rifiuti perché comunque ricevere un premio quando vai a puntare si sono anni che sento parlare non tanto a Genova non mi ricordo di averlo mai sentito ma il fatto di pesare la spazzatura più produci la parte riciclabile teoricamente quella parte viene poi venduta quindi il comune ne trae un vantaggio anche economico quindi io avrò una diminuzione del costo della mia Tari e sono cose fantascientifiche o applicabili? questo è il futuro perché la nuova la nuova delibera di Arera la nuova normativa stabilisce che si dovrà andare verso una tariffa puntuale tariffa puntuale vuol dire che io devo in qualche maniera verificare quanto il singolo utente effetto di conferimento di differenziata noi abbiamo attivato questo sistema sperimentale che riguarda gli ecocompattatori che sono 16 a Genova al conferimento di bottiglie e di altri oggetti che hanno avuto un successo veramente enorme e sono legati proprio all'incentivo l'incentivo può essere il bieto dell'autobus può essere anche lo sconto dal macellaio di zona e anche molti negozianti esercenti hanno avuto vantaggio andando avanti occorrerà attraverso anche i nuovi cassonetti intelligenti andare a verificare quanta differenziata viene fatta e quindi inizieremo già dal 2023 con un progetto sperimentale che sostanzialmente andrà a premiare coloro che faranno meno indifferenziata quindi coloro che utilizzeranno il meno possibile il cassonetto grigio che è quello che teoricamente in un mondo perfetto non dovrebbe esserci esatto o solo per pochissime cose che sono quelle che appunto non vengono utilizzate per il riciclo bene cara Silvio direi che ci siamo diciamo abbiamo fatto un bel punto della situazione con l'assessore Campora sulle sue deleghe facciamo un in bocca al lupo e tanti auguri di buon Natale auguri anche a voi di felice anno nuovo lo facciamo anche il nostro pubblico direi proprio di sì anche perché ci vuole comunque un 2023 più sostenibile più attento all'ambiente lo chiediamo a tutti di fare attenzione sotto l'albero mettete anche quello tra i regali esatto noi ci fermiamo con il programma politico un paio di settimane naturalmente non ci fermiamo con tutto il resto quindi in onda ci vedremo tante altre volte noi per quel che riguarda questa trasmissione ci rivediamo lunedì 9 gennaio grazie di essere stati con noi e buona serata grazie a tutti ieri e buoni grazie a tutti ieri